Ciao a tutti, io, Picettino, è il mio pigiama dei Minions, vi diamo il benvenuto nella nostra quarantena. Mettiamola così, sì ci scherzo su un po' ma in realtà siamo tutti a casa, ci si esce pochissimo, si esce per andare a fare la spesa. Io l'ho fatto stamattina dopo 5-6 giorni che ero chiuso in casa e niente, quindi dobbiamo trovare forme alternative. Le case editrici, avete visto in questo momento, stanno mettendo in piedi qualcosa di inedito, qualcosa di nuovo. La Bonelli comincerà oggi pomeriggio alle 6 con Michele Masiero a fare degli incontri online direttamente a casa degli autori. Masiero penso che lo fanno dalla redazione ma gli altri lo faranno a casa, a Rechioni lunedì a quanto ho capito per Dylan Dogg eccetera eccetera. Ed è una cosa bella perché come sapete gli assembramenti sono vietati, le fiere, i concerti, tutte le manifestazioni sono al momento in freezer, non ci sono. Quindi bisogna trovare metodi alternativi. La Bonelli ha trovato questo. Altri come Fabiano Ambo e la IT Comics stanno organizzando per il 25, se non sbaglio, controllate la loro pagina Facebook e il loro sito internet, una specie di fiera del fumetto online coinvolgendo anche altri autori, altre case editrici, quindi sarà una cosa molto particolare, nuova, davvero nuova e importante. Quindi il mondo del fumetto pur passando un momento esattamente come tanti altri settori, non dico di crisi ma di difficoltà perché la difficoltà c'è per tutti noi, sta comunque cercando di reinventare, di ridare, di adeguarsi a quello che è questa emergenza sanitaria in modalità nuove e assolutamente inedite per certi versi. E quindi diamo un applauso e nel nostro piccolo facciamo quello che possiamo anche noi. Nel mio specifico caso è fare una bella chiacchierata su questo Dragonero numero 82, ops, no scusate, Dragonero Ribelle numero 5, che è uscito in edicola il 10 di marzo, eccolo qui, si chiama Gli Dei dell'Arena, costa 3,90€, 98 pagine in bianco e nero. Cominciamo subito con la copertina di Gianluca Pagliarani e i colori di Paolo Francescutto. Beh ragazzi io partirei prima dai colori perché è una tridimensionalità paurosa, questa macchia di sangue che non è buttata lì a caso per fare scena ma ha una sua logicità, questa armatura magnifica, la telecamera non rende la bellezza di questa colorazione, di questo disegno, fantastico. dà proprio un senso di tridimensionalità, una copertina bellissima, gli spalti gremieti, Gian che brandisce la sua fiera spada macchiata di sangue, anche se secondo me la macchia di sangue è un po' eccessiva, sembra più ketchup quasi, però diciamo che c'è tutto quello che può rendere interessante, viva e attaccare la cursa di un lettore all'interno di questa copertina, quindi è magnifica, è una delle copertine ad oggi che mi sta piacendo di più di Pagliarani, veramente bella bella bella, complimenti per i colori, se questo vi è dato la visita chissà cosa troveremo dentro, è presto detto basta aprirlo, troveremo una cosa bellissima, innanzitutto vabbè troviamo la pubblicità del nuovo volume dei Senz'Anima che prima o poi dovrò recuperare, visto che so che in edicola non usciranno, quindi recupererò i volumi appena possibile, ma andiamo avanti, cronache della ribellione di Luca Barbieri che ci fa un po' di spot, questa è una cosa interessante, un po' di spot sulla principessa delle sabbie, che è il volume nuovo che deve uscire a marzo, che riedita a colori in formato deluxe, ultra mega wow, lo speciale è il 2017, perché ci va questo spottone? Perché questo spottone? Perché oltre vabbè giustamente a rendere omaggio a questa riedizione ampliata e delusso, userei dire parecchio, io ne ho una sola di queste deluxe, ma pur non amando i brusolati mi stanno piacendo, devo essere sincero, comunque troveremo gli personaggi coinvolti in quella vicenda, quindi la principessa Kanesha e la guardia del corpo Gaelig, il marito di lei, li troveremo in questa storia, quindi le due storie si intrecciano qui. Ci sarà qualcosa di particolare, lo scopriamo leggendo questa avventura, ma le due storie si intrecciano, quindi editorialmente parlando hanno fatto una bellissima cosa di unire l'uscita, la riedizione di questa storia con l'uscita in edicola di questa avventura che coinvolge i protagonisti. Abbiamo poi un riassuntino un po' artistico alla fine, nel senso che sì, il numero 4, l'Uro della Carne, è stato un albo bello, ma tappabuco barra prologo preso alla larga proprio, non è un'avventura strettamente collegata con Dragonero Ribelle, era un'avventura che si lasciava leggere e poteva anche fare a sé stante anni prima o essere raccontata molto dopo, non cambiava molto. Cambia che cosa? Cambia che ci ha dato l'introduzione alla missione che Usopter ha dato a Ian Egmore. Qual è questa missione? Di andare a recuperare il figlio, l'ultimo figlio vivo del principe Anvin, che è l'erede al trono, questo principe è l'erede al trono del principato di Miara, che se riusciranno a portare a casa questo principe, avranno appoggio alla clandestinità che in questo momento è la fonte di vita, la fonte dei ribelli, che lavorano in clandestinità e si appoggiano a quello che gli altri regni e le altre possibilità danno ai ribelli stessi e quindi avranno un canale in più. Ovviamente il problema grosso è che questo ragazzo è diventato un combattente nell'arena del Vakondar. Che cosa sono queste arene? Ce lo fa vedere di persona Riccardo Latina. Questo è un esempio di quello che troviamo nel regno e questa è l'arena, che è un colosseo fondamentalmente. All'interno troviamo effettivamente i gladiatori che si menano selvaggiamente. Jan e Gmor sono infiltrati qui. Infatti potete, ovviamente non ci viene risparmiato nulla, c'è una bestialità di fondo, anche la pulizia che viene data alle arene. Faccio vedere una delle scene più con i morti che vengono portati via, i feriti che vengono portati via. E Jan e Gmor invece, e lo Jan invece vincitore. Eccolo qua, vediamo se riesco a farvelo vedere. Eccolo qui, Jan vincitore. Ovviamente tutto questo ha anche un sottobosco di scommesse per guadagnare più soldi, per liberarsi, eccetera, in cui il nostro principino finisce invischiato e purtroppo non ha fortuna e quindi è coperto di debiti. Si cerca di, si cerca di venirne fuori ovviamente. Esistono, esiste un capo, esistono ovviamente delle facility importanti per i nostri guerrieri forti, quindi hanno la spa, giacciono con le figlie dei nobili, con le mogli dei nobili. Però ovviamente tutto questo è correlato al successo all'interno. Perché abbiamo la correlazione con quello speciale? Perché ricompaiono proprio i nostri protagonisti. Ricompaiono il marito, ricompare la nostra principessa, Canesha, e ricompare pure la sua guardia del corpo. Ovviamente guardia del corpo e principessa hanno una relazione particolare, non scendono nei dettagli, lo scoprirete. E scopriamo pure che Canesha è incinta. Il marito ordisce purtroppo un piano non proprio bellissimo per liberarsi della nostra guardia del corpo, di Gaelig. Da lì nasce tutto lo spunto che il buon Luca Enoch ci racconta nel suo certo sceneggiatura, affinché la missione di Yann e Gmore vada a buon fine. Insomma, c'è tutto un giro di fronti che ruota intorno a questi personaggi, che ci permetterà poi di capire come Yann e come Gmore affronteranno la cosa. Non voglio spogliarla troppo perché è interessante. Ovviamente, torno un attimo sul capitolo disegni, abbiamo sangue come se non ci fosse un domani, i disegni sono fantastici, non lasciano proprio niente al casmo. Le espressioni facciali sono magnifiche e questo, a grandi linee, è il capitolo di Dragonero. Ovviamente ha una sua fine, fine dell'episodio e fa parte del grande affresco. Ovviamente, come è giusto che sia, ne succederà quello che deve succedere, ovvero che comunque i nostri eroi trionferanno in un certo modo e quindi avremo il via probabilmente a qualcos'altro, visto che questa era una missione che doveva aiutare e portare verso un aiuto alla clandestinità dei nostri eroi. In queste 98 pagine c'è davvero di tutto. C'è emozione, c'è lotta, c'è una sorta di gladiatore style che è molto ispirato al gladiatore, ai gladiatori, eccetera. Quindi è proprio una cosa particolare. Abbiamo tradimenti. Abbiamo un qualcosa che ricorda quasi una tragedia greca, per certi versi, con tradimenti, con doppio giochi, con piani che vengono scoperti. È veramente qualcosa di bello da leggere. Si sono un po' sbizzarriti. Ovviamente a post lettura il tutto si incastra anche in maniera molto semplice. Non abbiamo particolari guizzi o particolari cose che fondamentalmente non erano telefonate. Però mentre lo leggete scorre talmente bene, racconta talmente bene, che non vi accorgete che alla fine mettendo insieme tutto non era così difficile arrivare a quella conclusione. Quindi che non ci sono guizzi di inventiva, di situazioni nuove. Ma c'è un giocare con il doppio gioco, con i gladiatori, con i personaggi usato bene. Ecco, questo è questo tipo di dragonero. L'idea dell'arena è effettivamente un racconto ben scritto, ben disegnato, che si piazza come capitolo di questa ribellione, di questo nuovo dragonero, ma che comunque, dal mio punto di vista, è leggibile anche a sé stante per uno che non l'ha mai letto e si trova a vedere un po' questo dragonero. Hanno alzato molto l'asticella per quanto mi riguarda del realismo e della durezza nel racconto. Ovvio, una trama e un contesto come questo lo richiedeva assolutamente. Però devo essere sincero, si è alzato molto. Sangue, cose varie, ce ne sono tanti. Io posso soltanto dirvi che... Vabbè, le notturne sono bellissime, veramente. Posso soltanto dirvi che mi è piaciuto molto, che dragonero per me è ancora un'ottima lettura e questo numero in particolare mi è proprio colpito. È stato bello da leggere, ben disegnato. Si collega bene ai numeri precedenti, soprattutto al numero precedente. È bello il progetto di Enoch e di Vietti che ripescano i loro personaggi, le loro situazioni, le evolvono. Qui abbiamo un'evoluzione rispetto allo special 2017. È tutto in divenire. Se Dragonero ti fa capire quanto sia vivo e quanto sia lanciato verso un futuro che è inesplorato, per carità. Però capisci come è orchestrato bene, come dietro c'è un lavoro di sviluppo, crescita e cura molto molto ampio. Insomma, posso dire che questo Dragonero 5 è un bello spettacolo a partire dalla copertina ma con tutto il contenuto e soprattutto è qualcosa di veramente bello da leggere e da vedere. Quindi normalmente vi direi andatene a comprarlo, in questo momento vi dico quando riuscite compratelo e niente. Questo è più o meno quanto. Dragonero il ribelle numero 5, gli dei dell'arena. Per me è sì, alla grandissima. Entrate anche voi con Jan nell'arena e sperate di uscirne tutti interi. Alla prossima!